Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi appunto è una bella giornata soleggiata, fa anche abbastanza caldo per essere diciamo inizio primavera e ho deciso di fare un video recensione sulla Arpenas Chew della Quequa che vedete montata alle mie spalle. Inoltre approfitto per mostrarvi la bellezza di questo ciliegio. Andiamo ora ad aprire la tenda. Questa tenda, come vi dicevo prima, è la tenda da 20 euro della Decathlon. Quindi diciamo è una tenda base, di livello base per iniziare appunto. Questa tenda io l'ho provata anche in condizioni di pioggia e devo dire che sì, è abbastanza impermeabile. L'unica cosa che penalizza un pochino la struttura di questa tenda appunto è il fatto che la tela sia poco resistente diciamo a urti graffi. Infatti qua su a me si è aperta, dopo vi mostrerò meglio, ed è entrata l'acqua e vi assicuro che non è stata una bella sensazione. La tenda Arpenas Chew, cioè questa in sostanza, sarebbe ideata per due persone, ma secondo me sarebbe più per una persona. Questo perché? Perché in sostanza lo spazio per due persone anche ci sarebbe. Ma se teniamo conto che noi all'interno della nostra tenda dormiremo con il materassino e inoltre ci dovremmo portare anche tutto il materiale, vedo difficile il fatto che ci stia anche un'altra persona oltre appunto a noi. O se ci sta, ci sta molto stretta e diventerebbe una situazione ingestibile il fatto di stare stretti mentre si dorme. Comunque se devo essere sincero questa tenda isola molto bene dal freddo infatti ora qui sta soffiando una leggera rietta che comunque è abbastanza anche fastidiosa e questa tenda isola abbastanza bene appunto l'aria. Veniamo ora alle misure della tenda Allora io adesso mi distendo. Allora io non sono altissimo, sono alto 1 metro e 74 non vorrei dire una cavolata, ma devo dirvi sì che mi avanza poco meno di una spanna e io sono disteso proprio completamente nella tenda. Accanto a me, come vi ho detto prima, ci starebbe anche un'altra persona però diciamo che la vedo più come una tenda da una persona Comunque ora solo qualche piccolo dato di quello che dice Decathlon Decathlon dice che questa tenda resiste molto bene all'acqua e che resiste al vento però fino a 40 km orari Comunque diciamo che è una buona tenda una pecca diciamo l'unica forse di questa tenda è che pesa 2,2 kg e diciamo che se la consideriamo come solo per una persona come vi ho detto io portarsi 2,2 kg di tenda da solo è un po' una seccatura secondo me siccome la tenda è pensata per due potreste pensare anche di portarvi dietro un amico e magari vi dividete la tenda anche se opinione mia come vi ho detto prima in due starete stretti Ultima domanda ma che forse riassume l'intero video Consiglio questa tenda? Sì, la consiglio vivamente per le ragioni dette prima ma che ritorneremo a ripetere allora io la consiglio per il semplice motivo che per 20 euro avrete una tenda di ottima qualità perché i materiali sembrano anzi vi direi anche sono abbastanza resistenti come ho detto prima la Decathlon che non mi sponsorizza tra l'altro dice che i materiali sono resistenti all'acqua e posso anche confermarlo a parte quel piccolo buco ma quello non è dovuto alla Decathlon resistono all'aria fino a 40 km orari infatti adesso soffia abbastanza fortino ma la tenda è ancora ferma inoltre questa tenda tiene caldo perché isola bene e diciamo che è anche abbastanza spaziosa ecco per una persona per due è un po' strettina ma ci stanno lo stesso quindi direi che questa tenda ve la consiglio anche perché diciamo che tende da due posti di altre marche anche a questo prezzo non le troverete diciamo che una tenda da due persone la trovate con una fascia di presso dai 100 in su quindi secondo me per chi vuole iniziare a fare un trekking e vedere come si trova anche a dormire in tenda è inutile spendere 100 euro magari dopo non gli va non gli va e la tenda rimane lì a prendere polvere quindi secondo me è meglio spendere 20 euro per questa tenda vedete se vi piace e 20 euro diciamo in confronto a 100 sono anche pochi quindi avete fatto un bel acquisto se non vi piace avete speso 20 euro e non 100 e niente vedete provate un po' e niente io vi saluto qua ciao e alla prossima ciao 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 ciao